Il 2 luglio si rinnova l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove previsto. Una iniziativa molto gradita da turisti e cittadini pronti a visitare anche per questa domenica uno dei luoghi d'arte del territorio italiano. A giugno l'affluenza registrata è stata di 315.408 persone. L'appuntamento si svolge anche nel Salernitano. Nel Vallo di Diano saranno due i luoghi d'arte visitabili domenica, il Museo archeologico di Sala Consilina e la Certosa di San Lorenzo a Padula. Il Museo archeologico di Sala Consilina, aperto dalle 9 alle 13, presenta un percorso espositivo negli spazi della sede storica di Via Cappuccini. L'allestimento, attraverso una selezione di materiali rinvenuti nei corredi tombali, vuole raccontare la storia e le trasformazioni dell'insediamento di Sala Consilina a partire dal IX secolo a.C. fino al momento in cui, tra il V e il IV secolo a.C., nelle tombe compare la ceramica figurata di produzione greca e magno-greca. La Certosa di San Lorenzo a Padula, aperta dalle 9 alle 12 a 30, è il più vasto complesso monastico dell'Italia meridionale, nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici, inserita nel 1998 nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Tra gli altri siti visitabili nel Salernitano ci sono il Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e le aree archeologiche delle fornaci Santi Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno, ma anche il Museo e il Parco archeologico di Ponte Cagnano, il Parco archeologico urbano dell'antica Picenza, sempre a Ponte Cagnano-Faiano, e il Parco e l'area archeologica di Pestum e Velia.